Un saluto cari amici di Globus Television, Antonella Guglielmino. Ecco le notizie di Globus Magazine. Caso Watilix 2, condannati Vallejo e Jacui. Tre prosciolti. Oggi è una giornata storica non solo per noi cronisti ma anche per questo piccolo Stato perché siamo stati assolti. Lo ha detto già Luigi Nuzzi dopo la lettura della sentenza del processo Watilix che lo ha visto prosciolto. Penso che il Vaticano sia stato coraggioso, ha detto l'altro giornalista prosciolto Emiliano Fittipalli. Questo è stato un processo kafkiano per quanto riguarda l'accusa. La sua conclusione secondo me è stata positiva. Il Vaticano ha fatto un passo avanti. Condanne per Monsignor Luigi Vallejo Balda e per Francesca Immacolata Sciacui. L'assoluzione per Nicola Maio. Difetto per di giurisdizione per i giornalisti Gianluigi Nuzzi ed Emiliano Fittipalli. Questa è la sentenza pronunciata dal Tribunale del Vaticano del processo Watilix II sulla fuga dei documenti riservati alla Santa Sede. Abbadia San Salvatore in provincia di Siena torna nel Medioevo. Dall'8 al 10 luglio si celebra l'offerta dei Censi. La comunità Abbadenga smette gli abiti contemporanei e torna a vestire quelli dei suoi avi, ricostruendolo nel cuore antico del paese la vita del castrum vediemale. Per tre giorni il cuore del borgo si popola di dame e cavalieri, mercanti e soldati, fanciulle danzanti e giovani atleti. I cittadini smettono gli abiti contemporanei e torna a vestire quelli dei loro avi. Le piazze e le strade si trasformano in un palcoscenico naturale capace di accogliere taverne e botteghe di arti e messieri, mentre per le vie si muovono musicanti e giocolieri. Viene anche ricostruito un accampamento militare dove si susseguono tensioni e duelli, sfide che culminano nella grande gara a giochi tra terzieri, chiamati a misurarsi tra l'arco, le portantine e tante altre specialità. Convegno a Spadafora su Shakespeare. Nuovo evento nel quadro della ricorrenza del quattrocentesimo anniversario della morte del grande drammaturgo William Shakespeare. Al Museo dell'Argilla via Arriolo 13 di Spadafora in provincia di Messina, sabato 9 luglio alle ore 20 e 30, avrà luogo il convegno Was Shakespeare English? Shakespeare era inglese, a cui seguirà un evento di rilevanza internazionale, quale la proiezione del docufilm Was Shakespeare English? Shakespeare era inglese, da cui il titolo è il convegno stesso della regista Alicia Makisimova. Presentazione staff tecnico a Catania. Continua il processo di rinnovamento del Catania, firmato Pietro Lomonaco. Nella giornata di ieri si è svolto a Torre del Grifo la conferenza stampa di presentazione dello staff tecnico che accompagnerà Pino Rigoli sulla panchina del Catania. Tra i volti già noti e i volti nuovi, l'amministratore, affiancato proprio dallo stesso tecnico, ha voluto sottolineare l'importanza e il valore dei professionisti chiamati a ricoprire i vari ruoli al fianco dell'allenatore. Vincenzo Milazzo sarà il vice dell'ex tecnico dell'Acragas. Alessandro Russo continuerà a lavorare con Rigoli in veste di collaboratore tecnico. Marco Onorati tornerà a fare il preparatore dei portieri. Marco Anastasi sarà il responsabile della preparazione tecnica, affiancato da Giuseppe Colombino. Infine Emanuele Passanisi sarà il nuovo team manager. definiti anche quadri sanitari che completeranno il gruppo di lavoro con l'inserimento di Francesco Riso, Alfio Scudero, Giuseppe Bonaccorso, Andrea Calì, Carmelo Cutronio e Salvat Catania Domusbet. Sono le nuove maglie dei giocatori rossazzurri. L'Omonaco l'ha annunciato ieri durante la conferenza stampa. Espose infatti la causa rossazzurra, il progetto di rinascita dell'amministratore, l'azienda Domusbet, che si lega con il main sponsor del club, con un contratto quadriennale. Pur non essendo state rese pubbliche le cifre dell'accordo, la durata del contratto rappresenta sicuramente un grande testato di stima nei confronti del lavoro dell'amministratore delegato dei rossazzurri, come ha confermato lo stesso Francesco Di Paola, presidente dell'azienda. E adesso passiamo alle notizie di storia. Accadde oggi 8 luglio. Era il 1099, prima crociata. 15.000 soldati cristiani affamati marciano attorno a Gerusalemme, mentre i difensioni musulmani li sbeffeggiano. Era il 1497, Vasco da Gama salpa da Lisbona, iniziando il suo viaggio verso l'India. Era il 1709, battaglia di Poltava in Ucraina. Pietro I di Russia sconfigge Carlo XII di Svezia a Poltava, ponendo fine al ruolo della Svezia come grande potenza in Europa. Era il 1776. Viene mostrata per la prima volta al pubblico a Filadelfia la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, firmata il 4 luglio. Era il 1889. Viene fondato ed esce il primo numero del Wall Street Journal. Era il 1919. in Italia nasce l'Associazione Nazionale Alpini. Infatti, proprio l'8 luglio, che è un gruppo di reduci della Grande Guerra, ne approva lo Statuto Sociale, decretandone quindi ufficialmente la Costituzione. Era il 1947. Nasce il cosiddetto caso Roswell. Il quotidiano locale Roswell Daily Record riporta che a Roswell, Nuovo Messico, il 509esimo gruppo bombardieri avrebbe catturato un oggetto volante non identificato. Un UFO si sarebbe schiantato al suolo e le parti recuperate sarebbero state portate alla base aerea di Wright-Peterson. Era il 1972. In un'attentata a Beirut perde la vita lo scrittore Gassan Canafani, portavoce del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina. Era il 1978. Sandro Pertini è eletto settimo presidente della Repubblica Italiana al sedicesimo scrutino, con 832 voti su 995. Era il 1982. L'Italia sconfigge la Polonia in semifinale dei mondiali con una doppietta di Paolo Rossi e accede alla finale di Madrid. Era il 1990. Germania, campione del mondo per la terza volta, sconfitta a Roma 1-0, l'Argentina di Maradona. Era il 2003. Wikipedia avvia le sue versioni in ebraico ed ungherese. E adesso, come ogni venerdì, il servizio del collega Lusso Di Mauro sugli eventi che ci sono in giro per la Sicilia. A lunedì! Musica e suono di Nuccio da Ferrita. La finestra è ormai consueta. Sulla nostra emittente si parla di eventi, si parla di musica, guai se fosse il contrario. Si parla ancora del teatro antico di Taormina, una estate sicuramente straordinaria. Questo quartetto è veramente... Io lo amo tantissimo perché passiamo da Caposella, Gazzè, Nannini e De Gregori. E scusate se è poco. Insomma, il meglio che in Italia abbiamo, diciamo, della musica cantavotolare, della musica popolare contemporanea. Saranno a Taormina, ma non saranno solo a Taormina, verranno anche a Palermo. Nel caso di Gianna Nannini, il teatro è anche Balle dei Templi ad Agrigento. Max Gazzè e Fiorella Mannoia, per esempio, li troveremo anche a Sciacca. Sciacca è un altro territorio, un'altra cittadina meravigliosa dove stiamo lavorando da qualche anno e che, diciamo, accoglie proprio il pubblico entusiasta e viene, diciamo, in massa a vedere i concerti. E Taormina, chiaramente, conclude la sua stagione per quanto ci riguarda con questi grandi eventi che si realizzeranno appunto alla fine di agosto. Diciamo subito le date. Caposella è il 21 agosto, il 25 è Gazzè, il 26 è l'Anannini e il 27 De Gregori che tra l'altro sono artisti che tu hai avuto nel tuo parterre, nel tuo carnet, ovviamente, per quanto riguarda la tua agenzia di spettacolo. Li porti ovviamente a chiudere in bellezza l'estate. Sì, assolutamente. Diciamo che con Taormina, con Zafferana, con Sciacca e con Palermo queste sono le quattro location dove stiamo lavorando di più e dove gli artisti, diciamo, i nostri artisti andranno quest'estate. Poi la nostra attività si concluderà alla fine di settembre al Cuscus Fest di San Vitolo Capo e lì, diciamo, quella è anche la nostra vacanza, diciamo, lavorativa. Bene, allora con Nuccio Laferrida, con Musica e Suoni si chiude questa parentesi di eventi e noi ci rivediamo con altre situazioni, con altro spettacolo, ovviamente su Globus Television. Monti Cusci бу Autore dei sovrapposti